Nel libro di Gerardo di Verniere, Cosa, presentato nell'auditorium Antonio Casagrande di Altavilla Silentina qualche settimana fa, si fa strada un'ipotesi davvero interessante e suggestiva, che a Falagato fosse insediato nel 273 a.C. un abitato denominato appunto Cosa, una colonia greca. Di questa affascinante ipotesi, il primo a parlarne è stato l'altavillese Franco di Matteo, per decenni brillante editore. Qui si tratta di l'ubicazione probabile di una colonia greca, dedotta colonia latina nel 273 a.C., contemporaneamente a Pestum, e di questa colonia denominata Cosa non è stato mai accertato da parte degli studiosi l'esatta ubicazione, anche se di fatto hanno tutti preferito spostare la nostra Cosa in Toscana, in Etruria, l'attuale Anzedonia, o addirittura in Calabria nei pressi di Sibari. Mentre probabilmente questa colonia era proprio qui nella nostra zona, in particolare nell'area di Falagato dove ci troviamo. Partendo da un'indicazione avuta da un caro nostro compaesano, Francesco Di Matteo, noto come editore palladio nel Salernitano, ho cercato di capire se l'indicazione fornita dagli storici latini, circa la deduzione di una colonia anche in questa zona, effettivamente avesse riguardato Falagato o meno. Ho cominciato così uno studio estremamente razionale che mi ha portato poi a delle conclusioni importanti. La mia ipotesi ha avuto una base di partenza importante ed è stata anche fondamentale perché mi ha aperto gli occhi in tantissime direzioni, ed è quale lo studio della toponomastica del territorio. In effetti le nostre contrate, circa 60, tra contrate e località, hanno tutte delle denominazioni stranissime e quindi approfondendo l'indagine etimologica sono riuscito a scoprire che sono tutte di matrice o greca o romana e la cosa più importante è che sono l'esatta descrizione della produttività o dell'orografia del territorio. Partendo da questa ho potuto scoprire per esempio in località Portiello, Pietramarotta, l'esistenza del probabile scalo di epoca romana fluviale, un porto in effetti che è conservato praticamente quasi in maniera intatta e del quale nessuno si era reso conto. Un porto che aveva una sua ragione di esistere in quanto si andava a collegare con il portus alburnus famoso ubicato sul sele poco al di sopra della foce e che giustificava anche dei commerci proprio con l'area alburnina, con la valle degli alburni dove appunto è ubicato il nostro porto. Secondo Gerardo Di Verniere non ci sarebbe stata soltanto comunque la presenza di questo abitato. In località Feo, a pochi passi dal santuario della Madonna della Neve, sarebbe stato anche presente un cosiddetto castrum, cioè un accampamento militare romano con oltre 5.000 uomini che serviva proprio a presidio dei territori che controllavano. Il posto più importante che è venuto fuori da questa ricerca è quello dove ci troviamo, qui a Falago, dove è la sattezza in località Feo, dove qui, da le mie ricerche, da una serie di indizi collimanti, sembra essere proprio ubicato un antico castrum, cioè un accampamento militare romano fisso che si usava normalmente a presidio dei territori nei quali ci si era allargati. Probabilmente il castrum addirittura prima della deduzione di colonie, circa nel 280 avanti Cristo, era stato posizionato qui dei romani e qui è rimasto di certo fino alla fine della seconda guerra punica, quindi intorno al 200 avanti Cristo, quindi per 180 anni. Ma anche successivamente, su una ricerca che sto in questo momento completando e che riguarda un famoso accampamento citato ma mai trovato, il cosiddetto castrum ufrentinum, con ogni probabilità era ancora presente intorno al 50 avanti Cristo, ma con valenza diversa, non più un accampamento militare, bensì una sorta di area industriale. Partendo da conoscenza approfondita del territorio, partendo da conoscenza del dialetto, partendo da conoscenza delle produttività che oggi non sono più le stesse sul territorio, è stato possibile capire che questo territorio non poteva non far parte di una narrazione storica relativamente al periodo classico greco e romano, come invece è normalmente avvenuto. Di questa zona praticamente non si è mai parlato, chi ha scritto di queste zone non ha mai parlato di quel periodo ed era strano perché la valenza, la qualità del territorio era elevatissima. Per cui oggi sono tutti curiosi di venire a vedere, anche perché ci sono sul posto delle presenze evidenti, anche qui alle mie spalle. La croce stessa è stata posizionata sopra evidentemente di un altro tipo di formazione, probabile muratura proprio dell'accampamento. A questo punto quindi sono in attesa solo di riscontri certi sul campo da parte sia della sovrintendenza sia dell'Università di Salerno, con la quale mi sono già interfacciato, per avere una conferma definitiva. Grazie a tutti.